pronti per un nuovo appuntamento milionario è il momento dell'estrazione di euro jackpot benvenuti al nostro appuntamento con l'estrazione di euro jackpot questa sera ci spostiamo a jagarè in vituania per scattare una foto alla casa delle pentole una collezione davvero originale di padelle cucchiai e altro tensivi da cucina in alluminio una casa emozionante ma lontanamente paragonabile all'emozione di chi potrebbe vincere il jackpot di stasera il suo valore è di ben 26 milioni di euro immergiamoci ora nell'atmosfera calda dell'estrazione nella sala delle urne le 50 sfere numerate sono già state caricate nella prima urna elettronica il mescolamento automatico è iniziato tra pochissimo scopriremo il primo numero di questa sera pronti per il primo numero che l'estrazione abbia inizio il primo numero è 28 ecco il secondo numero di questa sera il secondo estratto è il numero 13 siamo ora al terzo estratto ed è il numero 14 quarto numero di questa estrazione eccolo è il numero 25 la quinta sfera estratta potrà regalare vincite milionarie se associate i due euro numeri che arriveranno a brevissimo il quinto numero estratto è 42 mancano solo i due euro numeri e potrebbero assegnare il jackpot milionario in paglia oggi il primo euro numero di questa sera è il numero 12 manca una sola sfera per completare la combinazione vincente di questa sera il secondo euro numero estratto è il numero 11 è il momento di scoprire la combinazione vincente 13 14 25 28 42 i due euro numeri sono 11 e 12 vediamo insieme i risultati di questo concorso e le quote di tutte le categorie di vincita questa sera non è stato centrato il 5 più 2 ma moltissimi giocatori hanno comunque realizzato ricche vincite sia in Europa che in Italia seguitici sul sito web eurojackpot.it per scoprire dove sono state realizzate le vincite la caccia al jackpot milionario prosegue martedì prossimo il jackpot in paglio sarà pari a 32 milioni di euro il valore del jackpot continua a salire concorso dopo concorso i vincitori della prossima estrazione potreste essere voi vi ringraziamo per essere stati con noi e vi diamo appuntamento a venerdì prossimo con una nuova estrazione milionaria di eurojackpot grazie a tutti grazie a tutti